Parliamo di Kung Fu Panda 4. Oggi, 17 marzo, c'è stata l'anteprima nazionale del film, ufficialmente Kung Fu Panda dovrebbe uscire il 21 marzo in Italia, hanno dato appunto queste maschere che ora toglierò. E che dire, comunque era un film che attendevo molto, sia perché Kung Fu Panda in generale è la mia vita, è una delle mie saghe preferite in assoluto, è la mia saga preferita Dreamworks, l'ho detto tantissime volte, ho parlato anche di Kung Fu Panda più volte su questo canale, soprattutto del quarto capitolo. Uno dei video più famosi del canale è proprio Faranno mai un Kung Fu Panda 4? Sì, lo faranno, l'hanno fatto e probabilmente ne arriveranno anche altri. E finalmente siamo qui per parlare di questo film. Proprio come era successo con il primo trailer, la visione del film mi ha un po' deluso sotto il punto di vista di targetizzazione del film. Almeno a me è sembrato che questo quarto capitolo sia più un'estensione, un episodio molto lungo della serie che facevano tanto tempo fa su Ray Gulp, comunque quella Nickelodeon, io la vedevo su Ray Gulp. E quella serie, nonostante sia carina, nonostante ci sia affezionato perché appunto la vedevo da piccolo, non è per niente ai livelli dei primi tre film. Ad alcuni il terzo capitolo non piace neanche, ma io vedo un unicum quella trilogia e so per certo che è esagerato, ma per me sono tutti e tre allo stesso livello. Riconosco tutti i problemi del terzo, riconosco che è effettivamente il minore dei tre, però a me piacciono tutti e tre. E speravo mi potesse piacere anche questo quarto, che dovrebbe in teoria essere l'inizio di una nuova trilogia, anche il finale, senza fare spoiler naturalmente, lascia un po' le carte in tavola per possibili sequel. E tutto sommato non è che mi dispiaccia nemmeno l'idea, nonostante questo quarto film non mi sia piaciuto poi così tanto. Avevo letto da qualche parte che anche questo Kung Fu Panda 4, assieme a Il Gatto con gli Stivali e L'Ultimo Desiderio, avrebbe avuto dei particolari un po' simili a Into the Spider-Verse, quello stile d'animazione. Non dico che l'animazione sia leggermente diversa dai soliti Kung Fu Panda, ma ho trovato questo stile d'animazione, questa tecnica d'animazione, praticamente assente. Non è assolutamente come è successo appunto nel film sul Gatto con gli Stivali, uscito l'anno scorso, due anni fa? Oddio, sono già passati due anni? Forse sì. Detto questo, però, sul fronte animazione, comunque il livello è sempre abbastanza alto. Sì, ci sono alcune scene che mi hanno un po' lasciato a desiderare, per alcuni elementi introdotti che probabilmente non erano mai stati fatti vedere negli altri tre film, ma erano stati fatti vedere appunto nella serie, anche per questo mi ha ricordato molto quel prodotto totalmente diverso. Ed è anche per questo elemento forse che ho ritrovato in questo film l'idea di raggiungere un target quasi completamente diverso dagli altri tre film. Ci sono molte più gag fisiche, molti più momenti bambineschi, non che non mi sarei aspettato di vedere delle gag dedicate più ai bambini, però forse ce ne sono state un po' troppe. Per ora, per quanto mi riguarda, poi magari con i rewatch il pensiero cambierà in negativo o in positivo, non lo so, però Kung Fu Panda finisce con il terzo capitolo. Non è che odi così tanto questo quarto, anzi, mi sono anche divertito, possibilmente, con alcune scene, alcune idee. Ma posso dire lucidamente, anche mi dispiace in parte, che c'è Kung Fu Panda e poi c'è Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda, per me, ripeto, finisce al terzo capitolo, per alcuni potrebbe anche finire al secondo, ma io non sono d'accordo. Passando invece alla storia, quello che ci viene presentato, per quanto mi riguarda c'era del potenziale ed è stato sfruttato solamente in parte. Mi è dispiaciuta tantissimo la mancanza quasi totale dei 5 cicloni. Fortunatamente si sono accorti del loro enorme errore dopo le lamentele dal trailer e hanno cercato di rimediare in qualche modo sbagliando, non facendolo completamente. Il vero motivo, credo, fosse per il ritorno dei doppiatori originali e quindi non hanno voluto recastare i ruoli. Non lo so, queste sono mie supposizioni da rumor che avevo sentito. Comunque non tutti i doppiatori sono tornati, anche dei villain che ritornano qui, non è uno spoiler. La Camaleonte, questo stregone, questa strega, riesce a prendere le sembianze di ogni persona, di ogni animale nel loro universo che vuole. È l'unico doppiatore ufficiale a tornare dei tre villain principali e Ian McShane per Tai Lung, mentre Gary Oldman per Shen non è tornato, non è tornato neanche J.K. Simmons per Kai. E credo quindi che neanche Angelina Jolie, Jackie Chan e company siano voluti tornare per questo quarto capitolo. Non so il motivo, non mi interessa, so solo che mi è dispiaciuta questa scelta di fare un quarto capitolo di Kung Fu Panda senza i Cinque Cicloni. Shifu qui è messo molto da parte, ma ci può stare tranquillamente, ormai è un personaggio strasecondario nella storia. Sono più centrali i padri di Po e qui hanno rafforzato l'idea che c'era nel terzo con la famiglia composta da due padri, facendo anche una piccola critica a un certo punto, mi è parsa di sentirla come critica, la scena sulla barca con una piccola battuta per chi ha visto il film. E poi c'è il personaggio nuovo di Zecca, lei. E dico lei indicando lo schermo perché mi spiace ma non ricordo assolutamente come si chiami, devo controllare. E questo potrebbe anche in parte far capire quanto sia memorabile come personaggio, anche se non mi è dispiaciuto totalmente. Ok, su Google c'è scritto Zen, ma veniva pronunciato Jen, una cosa del genere. Non è un personaggio orribile, anzi, è molto simpatico nel tutto. E' anche possibilmente ben inglobato nella storia, anche se alcuni elementi sono molto prevedibili. Alcune cose, alcuni colpi di scena sono proprio lì da vedere, sono scritti sul muso del personaggio, di questa volpe. Altre invece ci possono anche stare. Mi è piaciuto il modo di muoversi di questo personaggio, quindi tornando dal punto di vista dell'animazione. Anche il villain lascia molto a desiderare, non è per niente ai livelli di Tai Lung o di Lord Shen, ma neanche di Kai, che è forse quello con la caratterizzazione del passato minore. Questo invece è proprio messo lì, a caso. Carina l'idea di una camaleonte che riesce a cambiare forma, diventando tutti, praticamente tutti i villain, tutti quelli che vuole, ma la sua caratterizzazione e il personaggio finisce lì. Davvero, non c'è, non c'è altro. E' cattiva perché vuole il potere, punto. Mentre Tai Lung magari aveva un'altra motivazione, Lord Shen aveva un'altra motivazione. Anche Kai in realtà è molto simile a questa villain, ma comunque li vedo totalmente su due livelli opposti. Belle però, tornando all'animazione, le trasformazioni di questo villain. Sotto il punto di vista dell'azione, questo quarto capitolo è un po' carente. Diciamo, ci sono delle scene che non mi sono piaciute molto, altre che invece sì, carine, ok. Altre in cui lo stile d'animazione sembra molto, quello di Spider-Man Into the Spider-Verse. In ogni caso, arrivando alla conclusione di questo video e di questa recensione, di questo film, sempre senza spoiler, non ho deciso di ormai fare questo tipo di video per le recensioni, solo senza spoiler, e magari poi a richiesta, se interessa, un video con spoiler, il finale devo dire che mi è piaciuto. Quello sì, quello mi è piaciuto molto. Hanno saputo dove colpire un fan di Kung Fu Panda. Sono riusciti a toccare delle corde che mi hanno fatto subito tornare bambino davanti alla TV a guardare il primo Kung Fu Panda, soprattutto il finale del primo Kung Fu Panda, ragazzi. È stato molto bello, il finale devo dire che ha risollevato un po' il mio pensiero riguardo questo film, perché sì, posso averlo visto in modo totalmente diverso dagli altri tre, lo vedo molto più infantile, lo vedo più un episodio della serie, qualcosa di molto minore in confronto alla saga principale. Non ho riso per la maggior parte delle battute, ma è comunque Kung Fu Panda, non so odiarlo. Ripeto che questo pensiero potrebbe tranquillamente cambiare, perché sono letteralmente appena tornato dalla sala, quindi è super fresco come pensiero, come opinione. Con i rewatch possibilmente potrebbe peggiorare o migliorare, chi lo sa. Lo vedremo solo vivendo, però, ripeto, il finale promosso, promosso quasi su tutto. Da come finisce il film, sempre se avrà successo, ma credo di sì, perché Kung Fu Panda, ci saranno dei sequel. È un finale abbastanza aperto, forse anche più aperto di quello del secondo capitolo. Il primo Kung Fu Panda non aveva un finale aperto, perché magari non poteva anche tranquillamente non fare successo come film e chiudere lì il tutto. Il terzo invece aveva già una conclusione in sé, perché credo che l'idea fosse fermarsi appunto al terzo. Sì, c'è una conclusione lì. Qui potrebbe anche essere visto un po' depotenziato, perché sappiamo a cosa è arrivato nel terzo film. Qui potrebbe usare alcune mosse che non usa, non so per quale motivo. E sono tra l'altro curioso di scoprire se continuerà, come continueranno, come alzeranno l'asticella con i villain, visto che questa camaleonte è comunque abbastanza forte, molto potente. Ora che ci penso, comunque guardando qui sulla TV, il film l'abbiamo già visto tutti, anche prima di vederlo, perché il trailer è spoiler dall'inizio alla fine. C'è tutto nel trailer, c'è l'intero film, non sto scherzando. Era già una paura che avevo capito, più o meno, guardando il trailer, ma posso darvi la conferma. Sì, c'è letteralmente tutto. Qualsiasi colpo di scena, qualsiasi no, non letteralmente proprio, ma la maggior parte dei colpi di scena visivi, soprattutto come questo, anche la camaleonte che si trasforma in Po' potrebbe essere visto come un colpo di scena all'interno del film, è presentato così, invece già nel trailer c'è. E c'è praticamente tutto. Ma ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine del video. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, tra i miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4, per avere un paio di calze gratis a scelta. Tra i miei social, oltre Instagram, su cui sono partiti diversi format, come trovate la scaletta nelle storie in evidenza. Sono usciti anche dei video su Kung Fu Panda, se vi interessa. C'è anche il link di Letterboxd, dove ci sono le mini recensioni, appena uscito dalla sala, di film e serie, indipendentemente dall'anno di uscita, comunque parlo di diverse cose su quell'applicazione. Potete vedere anche il mio diario. È un social a tutti gli effetti, vi consiglio, se non lo conoscete, di installarlo. Ho fatto anche un video sugli easter egg, che sono un plus per quel social. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Scaduch! E non Le Grazie a tutti.